Le aziende sarde guardano solo al mercato locale e sono sempre meno competitive fuori dalla Sardegna. Dal 2010 al 2016, su 2.834 bandi aggiudicati alle imprese di costruzione sarde, solo 58 hanno riguardato opere da realizzare fuori dall'isola per un importo inferiore ai 50 milioni di euro. Il 98% dei bandi e il 96% del loro valore si riferiscono a lavori pubblici realizzati o da realizzare in Sardegna. Sono i dati che emergono dallo studio sviluppato dalla CNA Imprese Sardegna che dopo aver focalizzato la propria attenzione sugli appalti pubblici nell'isola in cui le cose vanno tutt'altro che bene, ha studiato la competitività delle aziende sarde e la loro capacità di procurarsi lavori oltre il terreno. La CNA rileva che le imprese sarde praticano uno sconto minore, in media del 22%, per i lavori da realizzare nell'isola mentre sono disposte a praticare sconti più consistenti, fino al 27% per interventi da eseguire in altri territori. Quanto ai lavori ottenuti se in Sardegna l'importo medio di un'opera è di poco superiore ai 400 mila euro contro i quasi 840 mila euro di un'opera fuori dall'isola. Un dato esemplifica la scarsa attitudine per tutta una serie di motivi, a partire dalle dimensioni delle imprese sarde a varcare il terreno. Il 90% delle imprese lavora solo nell'isola. Quello che emerge dalla nostra ricerca, sottolineano Francesco Purco e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale della CNA e presidente di CNA Costruzioni, è che le imprese sarde, oltre ad avere una grande difficoltà da giudicarsi gli appalti più sostanziosi in Sardegna, non riescono neppure ad affacciarsi oltre il mare e a oltrepassare il mercato locale, seppur essendo disposti a praticare ribassi superiori a quelli che praticano nell'isola. È sempre più evidente, come sosteniamo da tempo, concludono i dirigenti della CNA, che per rilanciare il settore delle costruzioni e rendere più competitive le nostre imprese, sono necessarie politiche industriali in grado di incentivare la crescita dimensionale e i processi aggregativi del sistema imprenditoriale.